Io credo che la guerra per la volontà d'Italia alla fine sia stata una guerra civile ed è difficile unire dei territori con dei morti. Grazie, non dobbiamo dare, non dobbiamo terminare. Presidente, io penso che in questa volta abbiamo la nostra comunità, noi abbiamo la nostra regione e poi ci riconosciamo fino ad arrivare a un'unità comunità, siamo città. Quindi lì c'è stata presa un'Italia che non esiste, un'Italia che non c'è con tantissime quali sia. Anch'io non parteciperò al voto, perché ti sento da questo regime. Grazie per l'annuncio di Agetto, se la vuole mancare, credo. Grazie per l'annuncio di Agetto, se noi vogliamo, nella reciproca rispetto delle differenze, perché il federalismo vuol dire anche questo, rispettarci per poter stare insieme, rispettarci dal punto di vista culturale, rispettarci dal punto di vista storico, rispettarci dal punto di vista sociale, rispettarci dalla ricostante, c'è l'assenza da motivi storici e culturali. Grazie, senatore D'Agetto. Senatore Mura. Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, la Presidenza fa presente il segno di legge numero 4.366. sull'insegnamento del minimo a meglio, rete al comma 3 dell'articolo 1, una disposizione volta di istituire la giornata dell'unità nazionale della Costituzione, del minimo e della bandiera, fissata per il 17 marzo. Si tratta, pertanto, di una norma di contenuto sostanzialmente analogo al consegno di legge numero 3.256, che istituisce la giornata dell'unità d'Italia. La staglia di legge numero 3.256.